Follonica Nord Su raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento a 1 di Firenze in Pruneta. La viabilità cittadina per lavori in via Reginaldo-Giuliani, chiusura del tratto via della Pietraia via Collodi. I treni per un guasto agli impianti di circolazione tra Chiusi e Chianciano-Terme. I regionali potranno subire varie azioni e cancellazioni. Oversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!